Eccellenza, in questo momento di crisi qual è la situazione del diritto alla salute in Italia? Credo che l'attenzione che si pone a questo tema debba essere un'attenzione maggiormente rinnovata perché la crisi economica sicuramente ha inciso fortemente su quelle che sono le spese riguardo alla gestione sanitaria dell'intera nazione. Però non possiamo assolutamente diminuire le spese a scapito di persone non abili e persone che hanno in qualche modo delle problematiche congenite. Il diritto alla salute è innanzitutto un diritto che riguarda tutti i cittadini ma riguarda soprattutto quei cittadini diversamente abili che altrimenti non avrebbero più le dovute assistenze. Per cui crediamo che sia bene puntare il dito, ma non per accusare, ma per indicare quali possono essere le strategie per una revisione di quelle che sono le spese della sanità proprio per ricreare un rapporto molto più intenso e molto più fattivo tra i pazienti e direi anche l'apparato dello Stato. In questo contesto qual è l'importanza di questi due giorni del primo congresso della Corte di Giustizia Popolare per il diritto alla salute? Ma è un fatto molto importante perché chiaramente crea una dimensione di pubblicità a queste problematiche e le crea soprattutto in un momento in cui se ne è maggiormente bisogno. Quindi il progetto di Federanziani di una Corte di Giustizia Popolare per il diritto alla salute è sicuramente una grande intuizione che bisogna portare a compimento e bisogna sfruttare ancora di più. Qual è la situazione degli anziani oggi in Italia? Ma difficile dirlo. Comunque è una situazione di precarietà. Si sta purtroppo evolvendo in una realtà in cui molti anziani sono nel bisogno. D'altra parte chi percepisce solo la pensione di anzianità oggi come oggi non ha più il potere di acquisto che aveva qualche anno fa per cui è una situazione veramente complessa. Se poi c'è un problema di salute la situazione diventa ancora più difficile.